A questo punto devo dire una cosa importante che non è stata detta abbastanza, con sufficiente evidenza. I posti occupati dai falsi dirigenti sono stati sottrati ai veri dirigenti. E' come se degli infermieri non avessero preso, non sono stati medici, gli infermieri prescrivono, firmano, sottoscrivono le ricette, le ricette per le malattie firmate dai infermieri. Secondo voi la farmacia le consegna? Questo è successo, quello che non si dice con abbastanza forza.